Arriva un altro fine settimana, un weekend a lungo a dire il vero e quindi noi andiamo a scoprire con Manuel Mazzoleni di Trebimeteo come sarà il tempo questa fine settimana. Sì, non sarà un buon weekend perché si avvicina una perturbazione e quindi già nella giornata di sabato nubi in aumento su tutto il nord Italia e quindi anche sulla nostra zona, con piorti che arriveranno però solo nella seconda parte della giornata. Domenica sarà l'insegna dell'instabilità con molti nubi, ancora qualche pioggia di passaggio, non saranno frequenti ma a più riprese bagneranno per gran parte della giornata. In attesa poi del vero passaggio della perturbazione che è atteso invece nella giornata di lunedì con rovesci diffusi un po' su tutto il nord Italia e quindi anche sulla nostra zona. La prossima settimana invece cosa ci riserverà? Sì, dopo la giornata di lunedì che sarà appunto l'insegna dell'instabilità, la perturbazione si allontanerà, martedì c'era spazio a un miglioramento quindi anzi spazio di cielo sereno però non dureranno molto perché mercoledì dovrebbe arrivare un'altra perturbazione e portare un rapido peggioramento appunto nella giornata di mercoledì. Sarà appunto veloce perché poi da giovedì spazio nuovamente al del tempo con schiarite e con temperature in leggero rialzo a partire da giovedì. Grazie a Manuel Mazzoleni e a Trebi Meteo buon fine settimana a tutti.